buongiorno cari amici amanti dell'italiano dalla vostra insegnante di italiano luisa e benvenuti al capitolo numero 6 della storia di Pinocchio vediamo adesso le parole più difficili di questo capitolo la prima parola è per l'appunto in realtà sono tre parole per l'appunto vuol dire proprio così proprio per questo è una precisazione nottataccia la notte la conoscete tutti è una par della giornata quando va giù il sole e viene la luna e quando si dorme se io metto un suffisso accio in questo caso notte e femminile quindi accia è un peggiorativo vuol dire una brutta notte tuonare è quando c'è il temporale e il tuono è il rumore che sentiamo dopo che abbiamo visto il fulmine in cielo tuonare è il verbo lampeggiare invece è proprio quello che deriva dal lampo cioè quello che vediamo in cielo lampeggiare e tuonare sono due fenomeni atmosferici durante il temporale strapazzone viene da un verbo strapazzare trattare male e strapazzone è l'aggettivo trattato male fischiare è quello che facciamo con la bocca quando usiamo la bocca e la lingua per fare per mettere un suono come un fischio il fischio è un sostantivo invece fischiare è il verbo rabbiosamente rabbiosamente vuol dire con rabbia con cattiveria con quando si è arrabbiati ecco ed è un avverbio da rabbia rabbioso e rabbiosamente rabbia è un sostantivo rabbioso e un aggettivo e si può anche fare un avverbio rabbiosamente sollevare è quello che facciamo quando prendiamo un oggetto qualcosa una persona e la portiamo dal basso verso l'altro la polvere la polvere sono delle piccole particelle che si depositano sulle cose e di solito c'è la polvere quando non puliamo in casa ma anche nell'aria ci può essere la polvere stridere è un rumore stridere è un rumore acuto cigolare è un altro rumore che fanno di solito le cose che non sono più nuove che non funzionano più tanto bene accostare vuol dire mettere vicino accostare mettere proprio vicino a qualcos'altro prendere la carriera è un vocabolo un modo di dire che si usava una volta carriera è l'andamento più veloce del cavallo e quindi prendere la carriera si diceva per andare velocemente per andare di corsa salto è quando saltare c'è anche il verbo è quando solleviamo le gambe e per alzarci di colpo fiato grosso ci viene il fiato grosso quando facciamo uno sforzo se per esempio io corro per un chilometro che non sono abituata alla fine del chilometro ho il fiato grosso non riesco più a respirare dalla fatica avere il fiato grosso affacciarsi viene dalla parola faccia oppure viso e vuol dire affacciarsi quando io mi avvicino alla finestra per guardare fuori che cosa succede berretto è un capo di vestiario è quello una specie di cappello il cappello è più elegante invece il berretto è più sportivo di solito è fatto di lana fatto a mano berretto è quello che mettiamo in inverno per andare a sciare stizzito è un umore essere stizziti vuol dire essere arrabbiati costi è un sinonimo di qui in questo luogo rompicollo anche questa è una parola che ormai non si usa più si usava un tempo per dire un ragazzo un bambino birichino che fa delle marachelle che fa delle cose che non sono proprio belle è un ragazzino un bambino vivace molestare molestare vuol dire dare fastidio importunare si può anche dire catinellata catinellata deriva dalla parola catinella catinella è un contenitore che si usa di solito per lavare per permettere dell'acqua dentro e per lavare i vestiti oppure anche per lavare i piatti mettiamo una catinella e catinellata vuol dire una catinella piena di rovescio una catinellata d'acqua vuol dire che rovescio una quantità di acqua che è contenuta in una catinella annaffiare vuol dire dare l'acqua ai fiori alle piante annaffiare geranio è un fiore può essere di diversi colori geranio appassito e quando questo fiore questo geranio non è più bello non è più giovane perde i petali oppure non ha abbastanza acqua e quindi non sta bene sta per morire è appassito fradicio fradicio si usa come aggettivo per dire pieno d'acqua e impillaccherato è anche una parola ormai obsoleta vecchia non si usa più impillaccherato per dire sporco pieno di fango infangato adagio vuol dire lentamente adagio c'è anche soprattutto nel linguaggio della musica adagio stropicciare stropicciare gli occhi è quella azione che facciamo con le mani quando siamo stanchi oppure appena svegli e ci stropicciamo gli occhi con le mani ci tocchiamo gli occhi per vedere meglio e reggersi reggersi vuol dire stare reggersi in piedi stare in piedi ecco queste erano le parole difficili del capitolo numero 6 e adesso vi auguro un buon ascolto capitolo 6 pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati per l'appunto era una notta taccia d'inferno tuonava forte forte lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaccio freddo e strapazzone fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi se non che la fame era più forte della paura motivo per cui accostò l'uscio di casa e presa la carriera in un centinaio di salti arrivò fino al paese con la lingua fuori e col fiato grosso come un cane da caccia ma trovo tutto buio e tutto deserto le botteghe erano chiuse le porte di casa chiuse le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane pareva il paese dei morti allora pinocchio preso dalla disperazione e dalla fame si attaccò il campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa dicendo dentro di sé qualcuno si affaccerà di fatti si affacciò un vecchino col berretto da notte in capo il quale gridò tutto stizzito che cosa volete a quest'ora che mi fareste il piacere di darmi un po di pane aspettami costi che torno subito rispose il vecchino credendo di avere a che fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicolli che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a pinocchio fatti sotto e para il cappello pinocchio che non aveva ancora un cappello si avvicinò e sentì pioversi addosso un enorme catinellata d'acqua che lo annaffiò tutto dalla testa ai piedi come se fosse un vaso di geranio appassito torno a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame e perché non aveva più forza di reggersi ritto si pose a sedere appongiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di braccia accesa e gli si addormentò e nel dormire i piedi che erano di legno gli presero fuoco e ad agio ad agio gli si carbonizzarono e diventarono cenere e pinocchio seguitava a dormire e a russare come se i suoi piedi fossero quelli di un altro finalmente sul far del giorno si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta chi è domandò sbadigliando estropicciandosi gli occhi sono io risposa una voce quella voce era la voce di geppetto ecco adesso vediamo di nuovo i vocaboli con la traduzione in tedesco per l'appunto ebbene notataccia una schlechte nacht turnare donan lampeggiare blitzen strapazone strapazierand fischiare pfeifen rabbiosamente wütend sollevare aufheben anheben polvere staub stridere kreischen cigolare knarren quietschen accostare anlehnen salto sprung fiatto grosso keuchen oder keuchende atem affacciarsi sich am fenster zeigen berretto mütze stizzito erbost zornig costi qui hier rompicollo vagehals molestare belestigen catinellata eine waschschüssel voll annaffiare gießen geranio appassito vervelte geranie fradicio picchnass impillaccherato sporco schmutzig adagio langsam stropicciare gli occhi sich die augen reiben poi c'era ancora prendere la carriera schnell laufen e l'ultimo vocabolo reggersi sich auf etwas stützen oder stehen questo era il capitolo numero 6 vi do appuntamento al prossimo capitolo al capitolo numero 7 e per oggi vi auguro una buona giornata e arrivederci a presto ciao ciao da luisa la vostra insegnante di italiano No. No.